Quindi siamo arrivati a capire effettivamente quello che è l'utilizzo e il funzionamento diciamo di TypeScript, quindi è quello di darci una garanzia e aiutarci a intercettare l'errore prima che il codice venga appunto compilato, che poi verrà diciamo transpilato, quindi compilato ed eseguito in JavaScript. Quindi la nostra applicazione che andremo a produrre e rilasciare effettivamente verrà poi eseguita in JavaScript, non verrà eseguita in TypeScript, quindi avere un'applicazione in TypeScript non vuol dire che poi essa sarà effettivamente eseguita in TypeScript, sarà poi eseguita e lanciata dal nostro browser in JavaScript. Questo è molto molto importante. Ora andando avanti i nostri prossimi topic saranno andare a vedere quelli che sono effettivamente i nostri Type. Andiamo un po' a vederli. Ecco noi abbiamo una serie di Types. Un Type altro non va a che essere la tipologia di dato con cui noi vogliamo andare a lavorare. Abbiamo i tipi diciamo primitivi che vanno a essere le stringhe, i numeri e i booleani, in cui mi sono dimenticato una O, ma non andrò a rifare la grafica. Abbiamo i booleani. Dopodiché abbiamo quelli che sono degli elementi diciamo di null, di niente, ecco, in cui abbiamo null proprio come tipo undefined e void. Void è la classica funzione che non ritorna nulla come tipologia per darvi un po' indicazioni di quello che è il Type di cui stiamo parlando. Dopodiché abbiamo le tipologie di oggetto, quindi gli array, gli oggetti, le tuple. Per chi comunque è abituato a lavorare magari con altri linguaggi come ad esempio Python può aver già incontrato le tuple. In JavaScript non sono così frequenti, però le tuple sono appunto una tipologia specifica di array. per dirlo nella JavaScript way, una tipologia particolare di array, quindi di un'associazione di chiave e valore, però non sotto forma di oggetto. E poi abbiamo delle tipologie diciamo custom che in questo caso è il type any. Il type any è un pochino la via di fuga. Quando non sappiamo bene che tipologia di dato andremo a utilizzare, soprattutto magari ci verrà restituito, piuttosto che andare a incastrarsi in un tipo di oggetto che poi magari effettivamente non è corretto rispetto a quello che vogliamo andare a utilizzare, allora si utilizza. Diciamo che è la via di fuga, ecco. Se la tua TypeScript app è piena di any, c'è qualcosa che comunque non va. È proprio una via di fuga estrema. Ora, visti quelli che sono questi types, che andremo a vedere nel dettaglio uno a uno, è importante capire effettivamente noi quando dobbiamo andare a utilizzare TypeScript e in che situazioni esso viene ad aiutarci. Sicuramente TypeScript diciamo che è un qualcosa che aiuta il dev sì nella compilazione, ma anche e poi soprattutto quando va a relazionarsi con quelli che sono altri sviluppatori. e situazioni in cui, diciamo, questo ci è molto d'aiuto. Ad esempio, se io ho bisogno, mettiamo caso, di star lavorando all'interno di un team, io avrò la funzione const.prova.fn, che voglio che appunto sia una funzione che ho bisogno che accetti due numeri e ho bisogno che restituisca quella che è ad esempio una stringa. Questa funzione ovviamente ha poco, poco senso. A meno che appunto andiamo a fare un piccolo refactor. In questo modo mettiamo a caso che appunto io avrò il mio team di sviluppatori incredibili che lavoreranno insieme a me. Ecco, se io non avessi questo tipo di definizione, se passasse lo sviluppatore franchetto, mettiamo a caso che franchetto andasse a togliere il fatto che qua c'è un toString. Ecco, se io non avessi questa definizione in TypeScript, lui A non si accorgerebbe dell'errore e B comunque tutto quanto andrebbe avanti e magari tutta la mia applicazione si spaccherebbe in JavaScript. Quello che mi troverei sarebbe esattamente una dicitura di questo tipo. Ecco, in questo caso io in JavaScript non avrei niente che mi suggerirebbe che questo toString che era stato applicato fosse così fondamentale. Nella definizione invece di quello che è TypeScript andiamo a ottenere questo tipo di garanzia. Andiamo un po' a vedere effettivamente quella che è la sintassi. Adesso non preoccupatevi, entriamo poi nel dettaglio di quella che è la sintassi di TypeScript. Anche se abbastanza dichiarativa, noi qua andiamo a definire una funzione, poi andiamo a dire che è di tipologia number, il parametro che viene accettato. E andiamo a dire che deve ritornare quella che è una stringa, la nostra funzione. A questo punto se io andassi all'interno a utilizzare, diciamo, prova, prova fn2, come potete vedere se io andassi a passarli 1, ho un punto esclamativo, ho quello che voglio, e qua 2 avrei comunque la sottolineatura che non va bene perché il parametro A deve essere di tipo stringa. Quindi se io poi vado a mettere 1, ecco che la mia applicazione non piange più e possa andare a compilare il mio file. Quindi andare a dire tsc intro. Andiamo a compiarlo. Ecco che io non l'avevo salvato e ci va a far notare quello che è l'errore. Da notare è che comunque lui è andato a compilare. Ricordiamoci questo aspetto, il fatto che TypeScript, se faccio notare l'errore, non vuol dire che lui non andrà a compilare. Andiamo a salvare e a ricompilare il nostro file. A questo punto sarà tutto corretto. E come vedete, quello che ci aiuta anche a fare è evitarci all'interno del corpo della funzione di andare a impiccarci e fare poi all'interno di esso il controllo dei type della nostra funzione. Perché se io volessi avere questa garanzia in JavaScript di essere appunto avvisato, qualora non coincidessero, comunque non volessi svolgere queste operazioni, qualora esse appunto fossero delle stringhe, questa somma dovrei andare a controllare che il type of A sia appunto un number e il type of B sia un number. solo a quel punto potrei andare a fare l'operazione per ritornare alla mia stringa. Ecco, ci aiuta sia a evitare da un lato di scrivere eventualmente il codice useless, sia soprattutto ad avere un controllo e una garanzia anche lavorando in collaborazione con altre persone che questa funzione diciamo sarà a prova di infame, diciamo, perché una persona volontariamente modificando questa funzione andrà a togliere di qua la parte che ritorna alla stringa, mettere un numero e togliere questa due stringa. Quindi poi nella revisione del codice mi accorgerò che qualcosa proprio non torna. Ecco, situazioni in cui TypeScript ci è molto di aiuto. Quello che faremo d'ora in poi a noi sarà proprio quello di andare a muoverci all'interno della doc di TypeScript che vi consiglia di andare a gironzolare. A questo punto noi siamo arrivati da queste parti e abbiamo un po' iniziato a giochicchiare. Voi scorretelo un po', vedete effettivamente quante tipologie di type noi abbiamo che piano piano andremo a vedere tutte. Chiudiamo questa lezione andando a vedere quella che è la sintassi classica di quello che è proprio un type. Andiamo magari a eliminare, diciamo, questa parte qua sopra di cui ci facciamo poco. Questa la possiamo tenere, ma non è così fondamentale. La teniamo perché è del codice che effettivamente ci servirà. Ma andiamo a spostarlo effettivamente al fondo. Giochiamo un po' con dei type un pochino più semplici. Quella che è la sintassi classica per definire quello che è un tipo, quindi mettiamo a caso che voglio definire un type, può dire che type parola sarà uguale a string. Non è obbligatorio il maiuscolo, è una convenzione che si va a utilizzare. Se andassi appunto a dire che const parola e gli dico che è di type parola, ok, vedete qua, vado a mettere i due punti dopo quella che è la dichiarazione della costante, come faccio poi effettivamente anche quando vado all'interno della funzione, vado a dire che di type parola, che sarà appunto una stringa. E questo in cosa mi aiuta? Mi aiuta perché se io andassi appunto a lavorare con quello che è la costante di parola, se io poi vado a farmi aiutare dal mio linter, ecco che sbucano tutti quei metodi che riguardano effettivamente le stringhe. Se io poi vado sotto, mi rendo conto che non ho metodi che riguardano i numeri. Se io dicessi appunto che questo è un numero, quindi se lavorassi con un altro type, stiamo lavorando un po' con i type primitivi, ecco. Se avessi, diciamo, type, const, numero, e diciamo che è di type number, sempre nello stesso modo, con la stessa sintassi, ecco che, ci portiamo dietro anche booleano, così abbiamo tutti i nostri types, se io andassi a giocare con numero, ecco che, numero, ecco che mi rendo conto che, facendomi aiutare, ecco che in questo momento ho solo i metodi che riguardano i numeri. E questo è molto, molto importante, è molto, molto utile, perché mi impedisce in ogni modo comunque di sbagliare. Poi se io volessi applicare un metodo di una stringa, come abbiamo visto, lui compila, lo esegue, e avrò l'errore poi in produzione. Però, nel momento in cui scrivo codice, ecco che vengo aiutato, veramente in maniera super esaustiva, con quelli che sono i metodi, anche col mio linting. Stessa cosa vale appunto con il booleano. Se lavorassi con il booleano, otterrei solo quelli che sono i metodi del booleano, che in questo caso è meramente value off. Ecco che ci aiuta ad andare a fare questo tipo di lavoro. Se appunto io qua andassi a dire let booleano, e dico che è tipo true, se volessi dire che booleano adesso è uguale a ciao, mi dice che egli amico non lo puoi fare, perché mi ha detto che questo è un booleano. E il tipo di stringa non è assegnabile al tipo di booleano. Ovviamente, ripeto, se adesso noi andassimo a compilare tutto questo, otteniamo sì l'errore dal nostro compilatore, però poi effettivamente booleano vale ciao nella sua compilazione. Ok, poi lui varrebbe questo, ma vedendolo qua un dev non lo accetta, e allora va a dire che booleano sarà uguale a false. E in questo caso lui smette di piangere, e tutto funziona nella maniera corretta. Ecco, questo è un esempio di come possiamo lavorare con i nostri metodi, con i nostri types, quelli che sono i types primitivi, e poi entriamo nell'ottica e negli esempi dei nostri types di oggetti, o comunque diciamo di nullify, chiamiamoli così.